Baudatti Pasquale Assende Matricola 00761 Pressione arteriosa 80-120 Reazione di Mac-Lega 4,75% Reazione di Palerro 16,5 Gamma-glutamil-transfeptina 28% Fosfatasi alcalina 0,57% Reazione di Kunker-Burman 42,9 alfa positivo Non avrà mica preso cortisante micitina? No, no, preso la metropolitana Venga Bene, bene, signor Baudatti Pasquale Ha risposto all'annuncio ed è stato subito assunto Grazie Che le sembra? Roba bella, bella veramente No, 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 la fabbrica Ah, quanto è belle tutte le lambadie, tutte le macchinette Le più sofisticate elaborazioni della cimarnetica Ma per noi il bene più prezioso sono i nostri cari lavoratori Lei, prego, si accomodi Grazie Hai Grazie 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 Grazie